ti sei sempre rifiutato di iscriverti ad instagram perché magari non volevi farti togliere troppa attenzione dall'uso quotidiano dei social media dopo tutto non sei bravo con le foto e facebook è già più che sufficiente per te tuttavia nei tempi più recenti ti sei dovuto arrendere perché instagram è ormai diventato un enorme bacino pieno di belle ragazze e qui i predatori abili sono ancora pochi ti basta scorrere un po il feed per scoprire che instagram è diventato un catalogo di ragazze in mostra mi scuso per il termine catalogo però ragazze assumetevi le vostre responsabilità di fronte ad un modo di comunicare quasi a senso unico mettere in mostra il proprio corpo o il proprio stile di vita pagato ovviamente dallo sugar daddy di turno pensando di diventare così celebri o popolari con questo social network è facile flirtare su internet se sai come fare solo che per la sua configurazione rimane un terreno di caccia piuttosto particolare qui puoi dimenticarti gli swipe e i super like infatti questa non è la funzione primaria di tale social network lavora sulle tue foto come puoi vedere instagram da il posto d'onore alle foto che sono la prima cosa che si nota e si concentra sulla bellezza visiva estetica più queste sono belle raffinate più è probabile che tu abbia successo le foto devono riflettere la tua personalità le tue attività le tue abitudini il tuo stile di vita sei poco attraente nelle foto ci vorrà del lavoro comprati un dispositivo degno di questo nome installa un app di ritocco che ne valga la pena e mettiti al lavoro ottimizza la tua galleria per suscitare l'interesse delle donne ogni tua nuova foto ti darà l'opportunità di apparire nel suo feed delle notizie attenzione non solo se ti segue perché potresti apparire anche tra i suggerimenti ovviamente e non dovrei dirlo metti soprattutto immagini che ti mostrano no non sto parlando delle foto di te a torso nudo davanti allo specchio del bagno di casa oppure negli spogliatoi della palestra e neanche delle tue foto con una magnum di champagne in mano durante una qualche festa di ibiza bensì delle foto che parlano di te della tua filosofia di vita di come investi il tuo tempo delle attività che pratichi degli hobby che hai e dei viaggi che fai ogni foto dovrebbe essere intesa come un pezzo del puzzle che nel su insieme rappresenta la tua vita